Il 23 maggio giovedì, buongiorno e benvenuti al primo appuntamento con la nostra informazione in regia Gianfrancesco Iacaruso. Minaccia la figlia nel bar dove lavora e la costringe a tornare a casa. La vicenda è accaduta a Isernia, protagonista una giovane di 22 anni di origini marocchine e il padre musulmano che non accettava il fatto che la figlia volesse vivere all'occidentale e frequentare ragazzi italiani. La polizia ha emesso tre provvedimenti nei confronti dei familiari della ragazza, il servizio di Davide Gambardella. 22 anni, la voglia di vivere all'occidentale, di avere un fidanzato di un'altra religione, una scelta, quella di emanciparsi, che non andava giù alla sua famiglia, perché lei, giovane musulmana, è come se avesse tradito le sue origini e soprattutto la sua fede. È una storia già scritta altre volte, quella che proviene da Isernia, dove un padre, forse condizionato da un retaggio culturale e religioso, inizia a minacciare la figlia ventenne, fino a piombare con moglie e fratello nel bar dove lavora e mi per trascinarla a casa con la forza. Sara, il nome per ovvie ragioni di fantasia, è una ragazza marocchina vittima di violenza tra le mura domestiche, una violenza che in certi ambienti, contaminato dall'estremismo religioso, può tarpare le ali alle giovani donne, fino a isolarle dal resto del mondo. Se non fosse stato per l'intervento degli agenti della polizia di Isernia, che hanno immediatamente notificato un provvedimento nei confronti dei suoi familiari, l'epilogo della vicenda sarebbe potuto essere di gran lunga peggiore. A far scattare l'allarme è stata una collega di Sara, che di fronte a quella scena ha allertato la polizia. Non le prime minacce rivolte alla giovane, ma una sorta di escalation, arrivata all'apice quando i suoi hanno fatto ritorno dal Marocco. La 22enne stava lavorando al bancone del bar, quando il padre, insieme alla mamma e al fratello, hanno fatto irruzione nel locale, per costringere a lasciare il lavoro e seguirla nella loro abitazione in provincia di Isernia. Angheriech era costretta a sopportare dal sangue del suo sangue, perché non accettava il suo cambiamento, la sua voglia di lavorare e di frequentare i ragazzi italiani. Il provvedimento del questore Davide della Cioppa nei confronti dei tre è per violenza domestica, una misura di prevenzione eseguita dagli agenti della divisione anticrimine per offrire una rapida tutela alla ragazza da altre condotte lesive e illecite. Le ricerche attivate a seguito della telefonata della sua collega alla sala operativa hanno permesso ai poliziotti di raggiungerla nell'abitazione in provincia di Isernia e di portarla in salvo in questura. Sara adesso è libera, ma la sua vita è tutta da ricostruire. Lavori di restauro per chiese e campanili in diversi centri della regione. Dal Ministero della Cultura arriveranno in Molise 4 milioni e 200 mila euro. I dettagli nel servizio di Tonino Danese. Dal Ministero della Cultura stanziati altri 4 milioni e 200 mila euro per ristrutturare chiese e campanili in Molise, ad annunciarlo ai parlamentari di Fratelli d'Italia, Elisabetta Lancellotta e Costanzo della Porta, finanziamenti che riguardano dunque i luoghi di culto di 9 comuni di entrambe le province. L'importo maggiore, 1 milione e 10 mila euro, destinato ad Acquaviva di Isernia per la chiesa di Sant'Anastasio, 450 mila euro rispettivamente a Trivento per lavori alla cappella del seminario e a Forlì del Sannio per la chiesa e il campanile di San Biagio. Sempre per chiese e campanile a Castro Pignano sono stanziati 360 mila euro, assalcito 410 mila euro, stessa cifra per il luogo di culto di Castel San Vincenzo, intitolato a San Martino, ancora 430 mila euro alla chiesa di San Biase ad Agnone. Altri 220 mila euro per la chiesa di San Leonardo a Colli a Volturno, 500 mila euro, infine la cifra per la chiesa e il campanile di Santa Maria degli Angeli a Venafro. Il governo sta dando grande attenzione al Molise, hanno detto l'Ancellotta e della Porta, che hanno voluto ringraziare ancora una volta il ministro Gennaro San Giuliano, con il quale hanno continuato il dialogo è frequente e per aver sempre recepito e dato concreta attuazione alle nostre istanze. Lo aspettiamo in Molise, hanno concluso i due parlamentari di Fratelli d'Italia, anche per avere l'occasione di fare il punto della situazione e un'attenta ricognizione del patrimonio storico, artistico e culturale molisano, volano del nostro turismo. E con la nostra informazione è tutto, adesso uno sguardo ai quotidiani locali e nazionali. Iniziamo come sempre dalla giornale del Molise, in apertura questa notizia, delitto Irmaforte, due mesi per decidere se l'indagata era capace di intendere e di volere. E ancora si parla di buona sanità, operato per una peritonite a 101 anni al Cardarelli, recupera in due giorni e già pianifica cosa farà fuori dall'ospedale. Anziana scomparsa a Torella, archiviata l'indagine per omicidio e occultamento di cadavere. Un focus sui trasporti dal ministero, arriva la notizia, 33 milioni per potenziare le ferrovie in Molise. E ancora altri fondi, ristrutturazione, chiese e campanili, oltre 4 milioni di euro dal ministero della cultura per nove comuni molisani. Andiamo a vedere cosa propone Molise Network. Ci sono alcuni argomenti, si parla delle elezioni comunali. Verso le comunali il trasferimento della scuola d'Ovidio a Selvapiana, contestato dal candidato Pino Ruta. E ancora, sempre sulla home di Molise Network, forum della pubblica amministrazione, Dina Chirico della Camera di Commercio di Campobasso, vince le Olimpiadi, sillabus. Passiamo a futuro Molise. Eccolo qui. In alto, l'ancellotta della porta, stanziamento a favore del Molise dal ministero della cultura per opere di ristrutturazione di chiese e campanili. L'associazione Libera Luna, attivazione del percorso rosa nei pronto soccorso per le donne vittime di violenza. Biodiversità. Il consigliere regionale Primiani, 5 Stelle, dice, dal Parco del Matesi al Parco del Biferno, una strategia per valorizzare il nostro patrimonio naturale. Ed ora, c'è primo piano, l'apertura, il titolo di apertura. E' questo, bilancio, eredità tragica. Tutto da rifare dal 2021. Giudizio di parifica amaro. La regione concorda con la Corte dei Conti, la roadmap. Entro fine giugno vanno riapprovati previsionali e consuntivi. Cefaratti e Roberti all'audizione. Il presidente assicura e dice, lavoriamo con Solerzia già da settimane. Quest'altra notizia. Trasporti green, 33,5 milioni per l'acquisto di 5 treni a idrogeno. Lo stanziamento dal ministero guidato da Salvini. Parla anche Marone, dice che il governo è vicino al Molise. A fondo pagina. Dimensionamento scolastico. Ripa Limosani vince pure al Consiglio di Stato. Intanto sulla questione della scuola Iovine, il consigliere Praetano ancora contro Chimisso, direttore dell'ufficio scolastico regionale. Intanto dal Ministero della Cultura arrivano fondi, chiese e campanili. L'Ancellotta e della Porta annunciano interventi per 4 milioni di euro. Le altre notizie, stiamo a centro pagina per alcuni richiami. Dai Sernia, Movida o Riposo. Stop musica a mezzanotte. La città si spacca. Si parla del Parco del Matese. Il caso finisce in Parlamento. Gravina interroga Pichetto Fratin attraverso una parlamentare del Movimento 5 Stelle. A Boiano, autovelox sulla Statale 17, c'è l'ok della giunta comunale. Quest'altra notizia. Fermato in centro per un controllo, si scaglia contro un carabiniere. Campo Bassano finisce nei guai. Luca Colella firma il punto. La politica è una cosa seria, ma seria, seria. In alto i titoli di sport. Delio Rossi riflette sull'offerta del Campo Basso. Attendo la giusta opportunità. Dai Sernia, il presidente Traisci promette, e dice, elementi di categoria e giovani forti. C'è, anzi, parla anche dei campionati nazionali universitari, in vetrina, tennis, tavolo, rugby e scherma. Voce intanto due i titoli assegnati. Queste sono le notizie di oggi su primo piano. Passiamo sui quotidiani nazionali. Qui in evidenza c'è il redditometro. Ieri se ne era parlato assai, oggi arriva questa notizia. Redditometro, stop di Meloni. La Premier sospende il decreto. Le opposizioni dicono, una figuraccia, via Giorgetti e Leo. L'annuncio dopo le polemiche. La Meloni dice, Nessun grande fratello. Non vessiamo la gente comune. Soddisfatta. Forza Italia. C'è anche un sondaggio. Vediamo un po'. Fratelli d'Italia al 26,5%. Il PD supera il 22%. Salgono Forza Italia e Lega. Cala il Movimento 5 Stelle. Di taglio centrale, questa fotonotizia. Atalanta da sogno vince l'Europa League. Stionfo storico sull'Everkusen e Bergamo. Chiaramente in festa. Continuiamo con la Repubblica che apre con un titolo economico. Fondo monetario internazionale. Allarme sui conti. I paletti del Fondo monetario che gelano l'esecutivo. Serve una manovra da 60 miliardi in due anni per sanare il bilancio. C'è accordo sulla fine del super bonus e sull'allungamento del PNRR. Ma bisogna fermare tutte le misure in deficit. Di spalla, dal Medio Oriente, brutalità di ammasso sulle donne e soldato. Ancora in ostaggio. E c'è anche quest'altra notizia. Spagna, Norvegia e Irlanda dicono sì alla Palestina, dunque al riconoscimento dello Stato della Palestina. Anche qui l'Atalanta, nella storia, sua l'Europa League. Passiamo al quotidiano torinese. La stampa. Sline con Meloni e Le Pen. I popolari tradiscono l'Unione Europea. C'è un'intervista alla leader del PD. Voglio il faccia a faccia su scuola e sanità. Abbiamo idee forti. La Premier, leggiamo ancora, cancella il tour a Parigi e Berlino per evitare. Foto con Macron e Scholz. Sul redditometro, centrodestra in tilt, è stato sospeso. Nel Milino, sgravi fiscali e sanità. C'è anche quest'altra notizia. L'inferno di Sue. L'influencer di Biella in coma con una ferita nel petto. Il marito arrestato per tentato omicidio. Continuiamo la rassegna stampa con il sole 24 ore. Borse. 339 miliardi in dividendi. Il record dei listini mondiali nel primo trimestre con una crescita del 2,4%. A Piazza Affari in tre mesi sono state distribuite cedole per 3,7 miliardi. Dal sole 24 ore al Fatto Quotidiano. Un'apertura, il titolo in evidenza su altri argomenti. Cirielli, Fratelli d'Italia, si fa la villa nel parco ma è illegale. Si parla del vice ministro degli esteri e vediamo, sentenza oscurata, scrive ancora il coordinano di Travaglio. Acquistò una cascina per farne un villone in un'area vincolata. Poi la batte e iniziò a costruire. Il sito della corte omissa il nome, cioè non leva il nome di quella sorta di omissis. Il 23 maggio si parla anche dopo il governo anche l'arma contro i magistrati. Morvillo dice Mori, l'ex comandante dei Ross, è intoccabile. Accuse ai PM contro la verità. Giorgia smonta il redditometro così in apertura libero, delusione per Visco e compagni. Il premier stoppa le polemiche e sospende la misura voluta dal vice ministro. Leo, la promessa di nessun grande fratello fiscale sarà mai introdotto da questo governo. Mario Secchi, direttore filmare editoriale, ha battuto il totem, non si torna indietro. Più in basso la rivolta dei carabinieri contro i PM lettera sul generale Mori sicuri sia estraneo alle accuse. È indagato l'ex comandante dei Ross. Uno sguardo adesso anche al tempo. Redditometro sospeso un film già visco scrive il quotidiano del capitale. Ecco la vera storia del decreto delle polemiche tra Manine e il piano del governo per rimediare. Continuiamo e andiamo a vedere restiamo a Roma con il messaggero redditometro stop di Meloni la Premier vede Leo e dice il decreto sospeso non ci sarà nessun grande fratello le opposizioni vanno all'attacco in arrivo una nuova norma e domani nel Consiglio dei Ministri il decreto salva casa. Andiamo a vedere le altre notizie il riconoscimento della Palestina l'Unione Europea si spacca e arriva anche il gelo da parte degli Stati Uniti e intanto in un video sciocca le soldatesse rapite e molestate da Hamas c'è quest'altra notizia mia figlia baby atleta stuprata dall'allenatore lui disse mi provocava la mamma della 14enne aggiunge dice ci fidavamo e ci siamo ritrovati soli a Roma ha chiesto il processo per il coach avvenire avvenire tre sì per la Palestina sugli ostaggi intanto altro shock Irlanda Norvegia e Spagna riconoscono lo Stato e Netanyahu richiama gli ambasciatori di taglio centrale redditometro alta di Meloni a perlo intanto per la tassa da Ricchi sospeso il decreto Oxfam rilancia il prelievo per i grandi patrimoni dal quotidiano della CEI al secolo d'Italia mai grande fratello fiscale Meloni sospende il decreto e in basso invece Spagna Norvegia e Irlanda riconoscono lo Stato palestinese si parla anche di quello che sta accadendo Capiflegrei la sinistra fa sciacallaggio sul terremoto e ancora Mosca allargheremo i confini nel Baltico poi arriva la smentita dal secolo d'Italia un salto come dire sull'altra sponda politica con il manifesto Stato di Palestina il gesto simbolico Spagna Irlanda e Norvegia annunciano il pieno riconoscimento entro i confini del 1967 in fondo a destra vedete una foto di Le Pen Marine Le Pen Giorgia Meloni i neonazi no scrive il manifesto le destre europee hanno aspettato la vigilia delle elezioni per provare a rendersi presentabili grandi manovre nei due gruppi conservatori e identitari guidate dalle ambizioni di Le Pen che vuole fare come Meloni Salvini insegue la maggioranza in Italia litiga questa dunque la sintesi la verità la verità apre con quest'altro argomento clamorosa scoperta di fuori dal coro sotto missione in corso sciaria accolta nei documenti italiani i contratti matrimoniali tra islamici registrati nei nostri comuni prevedono esplicitamente la possibilità della poligamia il marito mette nero su bianco anche la superiorità sulla moglie lei può chiedere il divorzio solo in certe circostanze e con il suo permesso questo leggiamo questa mattina su la verità intanto nelle circolari interne la raccomandazione nascondere con omissis il diritto a più consorti dunque si continua si parla di questa c'è questa notizia che chiaramente andrà approfondita dunque dalla verità adesso passiamo alla gazzetta dello sport che dedica gran parte giustamente della prima pagina all'Atalanta storica Atalanta l'Europa League è tua e poi vedete il titolo divina tripletta di Luckman l'imbattuto Bayern distrutto 3 a 0 Gasperini parla del suo futuro dice ne parlerò con percassi e Bergamo chiaramente in delirio ci saranno 6 in Champions la Roma spera per la prossima Champions bene con la gazzetta dello sport come sempre termino l'appuntamento del mattino e io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo alle 14 la seconda edizione del TG con tutti gli aggiornamenti grazie ancora buona giornata grazie a tutti